Sì, abbiamo cambiato punto il sole perché sennò in quell'ombra lì morivamo, morivamo. Io con tutti i pantaloni termici sotto sto a morire. Oggi fa freddo, infatti c'è la Martina, mi pensavo che ci stiamo comprovando, non ce la fa salvare. Eh, domani, mi sa che domani pure piove. Peggio, peggio, me sa. Bellissimo! Vai Martina, corri, corri! Bello questo! Ha capito? Sì, è l'agio per tutti i cani, una piccola difficoltà c'è sempre nel partire. Su tre abbiamo visto che quella che davvero è partita senza comprensione. Era gioia, sì. Poi ci può essere il cane che non parte subito perché si ferma a nusare, perché non ce la fa come merlino, eccetera. Però è un po' la difficoltà di tutti i cani, quindi il lavoro tanto è sulla partenza. Non è un problema poi trovare la partenza. Voi, vedi, vedi, perché è saltato da sto sì per fargli le feste, vedi? Eh, lo so Zoe, però è geloso, ha ragione, amore. Ok, cinque minuti di riposo, fate bene i cani, poi facciamo.